Fisco, giustizia, premierato e autonomia. Le cosiddette quattro grandi riforme del governo Meloni spiegate in spiaggia, nelle piazze e tra la gente. La campagna Stiamo cambiando l'Italia oggi ha fatto tappa a Pescara, ospite d'onore il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, circondato da parlamentari abruzzesi e amministratori locali. L'obiettivo però non è tanto convincere gli italiani sulla bontà delle riforme perché gli italiani dicono li abbiamo già convinti ottenendo la loro fiducia per governare. E allora sotto il sole di agosto cosa spinge tesserati e simpatizzanti a incontrare gente, consegnare brochure, indossare t-shirt ad hoc semplicemente per raccontare dove il paese sta andando ai posteri l'ardua sentenza. A Donzelli invece il compito di spiegare che grazie a queste quattro riforme l'Italia sarà migliore. Noi manteniamo la parola data, siamo stati eletti e mandati a governare l'Italia per fare queste quattro riforme e quindi anche se alla sinistra non piacciono manteniamo la parola data perché gli italiani ci hanno dato questo mandato. Troppe volte abbiamo visto in questa nazione politici che stavano al potere solo per gestire il potere. L'Italia deve essere cambiata, noi ci assumiamo la responsabilità e andiamo avanti fino in fondo. Certo che 500.000 firme raccolte in poche ore sta a testimonare che questo paese, questa riforma in particolare, la comprenda poco? No, vuol dire che 500.000 persone non sono d'accordo, è normale. Non è possibile far cambiare l'Italia pensando di accontentare tutti. Dobbiamo, esiste la democrazia, accontentare la maggioranza degli italiani e fare quello che abbiamo promesso. La sinistra aveva abituato il mezzogiorno alla politica dei bonus, dei sussidi, delle mance. Da quando c'è il governo Meloni il mezzogiorno cresce. Oggi ci sono, ieri erano usciti, oggi riportano i giornali, dati di un centro studi indipendente che è il centro studi di una banca, di un'importante banca, intesa San Paolo, che dimostra come il mezzogiorno, grazie alle politiche del governo, sta finalmente crescendo. Più del resto d'Italia come il resto d'Italia. Nell'export è molto più del resto d'Italia. Il mezzogiorno, da quando c'è il governo Meloni, inizia a essere la locomotiva d'Italia. Chi ha umiliato, lasciato indietro e tenuto fermo il mezzogiorno è stata la sinistra, il Movimento 5 Stelle, che pensavano che la politica al mezzogiorno fosse solo dare le mance e non far lavorare, non far produrre. Noi creiamo infrastrutture, lavoro, produzione, portiamo ricchezza e faremo crescere il mezzogiorno come non è mai cresciuto. Questo è il racconto di come si sta cambiando l'Italia, ma l'Abruzzo, visto che anche qui governa Fratelli d'Italia insieme ai suoi alleati, come sta cambiando? I risultati in Abruzzo sono alla luce e agli occhi di tutti. Le abbiamo raccontate durante la campagna elettorale che c'è stata recentemente in Abruzzo, anche lì a sentire la sinistra andava tutto male, in Abruzzo i cittadini erano tutti scontenti. Poi abbiamo visto che non è così. Quindi forse anche a qualche opinionista di sinistra, a qualche parlamentare di sinistra scollegato dal mondo che sta chiuso nel suo salotto a raccontare le sue favole, forse i bagni di realtà fanno sempre bene. Andrà così anche questa volta con queste riforme e con il buon governo Giorgia Meloni che sta riscuotendo anche interesse in tutta Europa e non solo. Secondo loro saremo rimasti isolati a livello internazionale. Oggi tutto il mondo guarda all'esperienza di governo di Giorgia Meloni.